Per chiudere così il tema, il quadro generale, del suo rapporto con Maldini si è detto anche che ultimamente c'era stato qualche scontro, comunque qualche diversità di vedute, addirittura immediatamente dopo il suo esonero si è parlato anche dell'esonero dell'allenatore, le chiedo come ha vissuto e cosa ci vuole dire riguardo, grazie. Posso solo dire che con Paolo ho avuto un grandissimo rapporto di fiducia e di rispetto, non sono mancate le discussioni, abbiamo avuto molto più discussioni però all'anno nello scudetto piuttosto che l'anno scorso, ma credo che sia normale tra un direttore e un allenatore, su alcune situazioni non eravamo nella stessa direzione, ma non è mai mancato il rispetto e la stima, questo nel modo più assoluto. Esonerato? Io non temo mai di essere esonerato, se un allenatore pensa di essere esonerato finisce per essere esonerato, io ho sempre lavorato tranquillo, mi sono sempre sentito al centro, mi sono sempre sentito tutelato, conosco i rischi del mistiere ma non penso mai a quelle eventualità.